Amici bentornati, nel video di oggi vediamo come andare a sostituire le tre batterie che alimentano il Citizen Aqualand ProMaster 1 più conosciuto come 6 viti ovvero la prima versione prodotta di questo orologio e primo orologio al mondo commerciale ad essere dotato di profondimetro se volete sapere di più sulla storia di questo orologio vi lascio in sovraimpressione il link ad un altro video che ho fatto per raccontare un pochino l'evoluzione di questo modello e tutte le versioni in cui è stato prodotto ma andiamo subito a vedere come effettuare la sostituzione delle batterie allora per prima cosa avremo bisogno di un kit, di un piccolo set di cacciaviti sono cacciaviti estremamente semplici, immagino li abbiate, se non li avete vi lascio qui sotto un link in descrizione dove potete acquistarli su Amazon ad un prezzo irrisorio occorre soltanto avere dei cacciaviti di buona qualità soprattutto per evitare di andare a graffiare o spanare le viti che abbiamo in questo orologio che sono difficili da reperire e eventualmente sostituire un'altra cosa importante da sapere è che questo orologio monta appunto tre batterie io ho acquistato tre batterie della Renata, una marca svizzera che era il fornitore ufficiale di Citizen e attualmente di molti marchi legati all'orologeria sono batterie di qualità, la sigla che dovete acquistare è la 371 vi consiglio di prendere pile prive di mercurio vi lascio anche in questo caso qui sotto nella descrizione il link a cui potete acquistare le batterie è molto comodo perché potete acquistare un kit di tre batterie, normalmente le vendono a coppie essendone necessarie soltanto tre in questo orologio, se ne acquistate quattro ne avrete una che vi avanza quindi questo link è molto comodo un'ultimissima informazione che vi voglio dare prima di cominciare lo smontaggio e la sostituzione delle pile è capire, come capire quando le batterie vanno sostituite eccoci qua, come potete vedere nella parte del display dove è indicata l'ora nel quadrante digitale ci sono quei due punti che lampeggiano tra le ore e i minuti che lampeggiano molto velocemente di quelli sono il primo indicatore che ci dà il nostro computer interno dell'orologio che le batterie si stanno scaricando in realtà io ho questi due puntini che lampeggiano velocemente già da diverse settimane ma ho continuato a usare l'orologio senza problemi ieri mi sono accorto che la lancetta dei secondi, potete vedere, non ce la fa più ad avanzare quindi si muove a scatti molto molto deboli che non ce la fanno a muovere la parte analogica dell'orologio mentre la parte digitale, come vedete, funziona correttamente segna anche l'orario esatto questo per quale motivo? perché ciascuna delle tre batterie che noi abbiamo all'interno dell'orologio ha una funzione diversa quindi è probabile che la batteria che alimenta la parte analogica si sia scaricata più rapidamente rispetto a quella che alimenta la parte digitale quindi teoricamente sarebbe possibile andare a sostituire anche solo una delle tre batterie in realtà poi un'altra parte gestisce il profondimetro ed altre funzioni ma io consiglio sempre comunque di sostituire tutte e tre le pile andiamo a vedere come allora, eccoci qua utilizziamo magari un panno di cotone, microfibra per evitare di graffiare il vetro dell'orologio e con un cacciavite spaccato procediamo a svitare le sei viti che reggono il fondello mi raccomando procediamo con estrema cautela cerchiamo di non scalfire o sgraffiare la cassa non c'è nessuna fretta ecco, per esempio io adesso ho fatto una cosa che era meglio non fare ma se ci muoviamo in modo leggero non dovremo causare alcun tipo di danno e procediamo così alla rimozione di tutte e sei le viti le sei viti sono uguali quindi non c'è bisogno di ricordare in quale ordine le abbiamo avvitate e svitate esiste in realtà un ordine poi per riavvitarle per far sì che la cassa sia serrata nel modo corretto ma questo ve lo farò vedere quando andiamo a richiudere il fondello ora potrebbe capitare che qualcuna delle viti è un pochino più ostica delle altre facciamo sempre molto piano per evitare di spanarla io adesso ho il telefono davanti che un pochino mi impedisce il movimento ma basta allentarlo un pochino allora siamo arrivati all'ultima vite facciamo sempre con calma, con caudela ci vogliono un paio di minuti, due o tre minuti per svitarle tutte siamo pronti a rimuovere il fondello ora come vedete all'interno del nostro orologio troviamo una, due, tre batterie sopra ciascuna batteria è posizionato un piccolo rombo di metallo che si va ad incastrare nei due lati su due sedi con queste piccole clip adesso vi faccio vedere come si smonta in quest'altro invece c'è una parte rossa che è una protezione con una molletta una piccola molla che vedete qui che dobbiamo fare molta attenzione a non perdere e che dobbiamo rimuovere svitando questa piccola vitina vi occorrerà un cacciavite forse un pochino più piccolo se lo avete per spostare questa plastica rossa e ad avere accesso alla batteria più sotto andiamo a svitare piano piano quella vite che regge la plastica possiamo quindi sollevarla in realtà possiamo anche non andare a rimuovere completamente la vite soltanto allentarla un pochino e far ruotare la plastica lateralmente per avere accesso alle batterie allora come vedete una parte dell'estremità degli esagoni si va ad inserire sotto questa placchettina e di qua c'è un'asola quindi quello che noi dobbiamo fare è fondamentalmente reggendo l'esagono farlo muovere farlo ruotare nella direzione dell'asola finché arriva lì sotto ed è libero di uscire poi come una molla vedete si si andrà a sollevare allora rimuoviamo prima tutti e tre gli esagoni vedete anche in questo caso dobbiamo far ruotare questo in questa direzione facciamo sempre tutto molto piano mettiamoci sempre a lavorare nella posizione più comoda ecco fatto abbiamo rimosso anche il terzo ok possiamo rimuovere finalmente le tre batterie esaurite vedete anche queste erano pile senza senza mercurio quindi non hanno causato nessun tipo di problema al meccanismo una cosa importante delle batterie come vedete su quelle di qualità almeno nella confezione è sempre riportata la data di scadenza ora queste scadranno nel 2024 quindi tra più di un anno normalmente questo orologio purtroppo per per come è proprio progettato non fa durare le batterie più di un anno e mezzo o due io considero sempre questa data come la data ultima in cui noi le dobbiamo installare ok non come la data in cui le batterie smetteranno di funzionare le ho comunque acquistate all'incirca un anno fa le avevo ne avevo acquistate due set da tre perché le dovevo montare su un altro orologio quelle che riceverete se le acquistate su amazon probabilmente avranno una data di scadenza molto più lunga comunque le andiamo a rimuovere dalla loro confezione e le montiamo sull'orelogio uno due e tre se vedete che c'è un po' di sporcizia nell'orelogio approfittate magari con un piccolo cotton fioc per per dare una pulita questo vi dà anche qualche indicazione su dove il fondello era serrato meno bene perché ha lasciato entrare un pochino di sporcizia l'importante è che la sporcizia non vada all'interno della guarnizione perché significa che entrerebbe facilmente anche l'acqua ora un'informazione sulla guarnizione ora è necessario sostituire questa guarnizione fatta a goccia ogni volta che andiamo ad aprire il fondello a cambiare le nostre pile teoricamente sì sarebbe meglio farlo ora io presuppongo che chi ha questo orologio non lo utilizzi per fare delle immersioni quindi io francamente non mi ci lavo neanche le mani perché comunque è un orologio d'epoca esistono oggi degli strumenti molto più affidabili molto più performanti per per fare per fare immersioni per misurare la profondità lo utilizzo come un orologio da indossare quotidianamente c'è una guarnizione perché comunque non voglio che entri l'umidità però diciamo che la sostituisco ogni tre o quattro volte che vado a cambiare le pile quindi diciamo ogni quattro cinque anni la cambio ma non ad ogni singola sostituzione ora per rimontare il tutto dobbiamo procedere a ritroso quindi riprendiamo i nostri rombettini di metallo non so se hanno un nome specifico servono ovviamente per far fare contatto alla batteria magari con un cotton fioc pulito eliminiamo un po' le impronte per levare il grasso o comunque la sporcizia dalla pila per farli fare il miglior contatto possibile e con una pinzetta e un pochino di pazienza andiamo a reinserirlo ora cominciamo da questo qua ad esempio quindi mettiamo mettiamo bene la pila ok la mettiamo bene in posizione poi andiamo ad inserire questa parte ok poi con il cotton fioc tengo premuta la pila vado ad inserire il il verso opposto in quella fessura che abbiamo visto prima e lo faccio ruotare rimettendolo in posizione spero si sia si sia visto insomma abbastanza bene e sto un pochino in controluce adesso proviamo a rifarlo con quest'altra batteria quindi sempre prendo con la pinzetta il mio rombetto lo inserisco con l'aiuto di un cotton fioc e di un cacciavitino vado a riposizionare il tutto mi accerto che la pila sia al centro lo premo giù all'interno della della sua fessura che vedete è qui di qua vedete dobbiamo spostare questo linguettina di qua ok in modo da incastrarlo ecco fatto secondo l'abbiamo messo procediamo con l'ultimo stiamo di là teniamo premuto e lo facciamo ruotare ecco fatto a questo punto non ci resta che riposizionare la nostra plastica ricordate che qui c'è questa vitina quindi la solleviamo leggermente per far sì che il forellino sulla plastica rossa vada ecco all'interno della della molletta ok andiamo nuovamente a ristringere la vite che serra la plastichina in questo modo e a questo punto il nostro orologio dovrebbe funzionare andiamo a verificare prima di chiuderlo eccoci qua allora io adesso non ho rimesso l'orario quindi l'orario digitale non corrisponde non fa scopa diciamo con quello analogico ma vedete che adesso i due punti tra l'ora e i minuti non lampeggiano più quindi sono fissi e la lancetta dei minuti dei secondi scusate si muove in modo estremamente regolare quindi l'orologio ha ripreso a funzionare correttamente procediamo nuovamente a chiuderlo facendo la stessa operazione a ritroso la cosa importante che dobbiamo fare durante questa ultima fase è quello di accertarci che l'oring che la guarnizione a forma di goccia sia ben inserita nella sua sede ok perché altrimenti non farà tenuta e ci sarà il rischio di fare qualche fare qualche danno quindi la inseriamo bene all'interno della della sua sede riprendiamo il nostro fondello è un fondello ovviamente asimmetrico quindi non c'è possibilità di sbagliare il verso del montaggio e andiamo a riserrare le nostre viti ora ricordate all'inizio del video che vi avevo detto che c'è un preciso ordine di serraggio delle viti bene vi faccio questo regalo ve lo faccio comparire qui in sovraimpressione ci sono pochissime persone a saperlo me lo aveva detto anni fa un un rivenditore che faceva la manutenzione anche ai ai citizen allora l'ordine esatto è uno quindi partire da questa vite due quindi andare a serrare quella diciamo diametralmente opposta poi tre quattro cinque e sei quindi come diciamo cucire questo è importante perché come quando serriamo i bulloni magari delle ruote della macchina ci permette di accompagnare di far spianare bene tutto quanto il il fondello e quindi garantire una maggior tenuta una alla volta seguendo l'ordine che vi ho detto prima che vedete in sovrimpressione andiamo stringere le viti ora non le serriamo subito fortissimo le appuntiamo soltanto e poi dopo le andremo a serrare a serrare bene ok mi sembra tutto stretto abbastanza bene l'orologio è pronto è funzionante basterà rimettere a posto l'orario il lavoro è finito amici allora il lavoro è finito ho rimesso anche l'orario una cosa che potete fare è quella di sincronizzare perfettamente i secondi sia dell'orario digitale che di quello analogico in questo modo potete tenere sotto controllo un po' meglio lo stato delle batterie la cosa che più di frequente succede è che la parte analogica quindi le lancette a un certo punto quando la batteria inizia a scaricarsi cominceranno ad andare un pochino più piano quindi voi vedrete che le lancette analogiche andranno a perdere qualche secondo rispetto invece all'orario digitale che rimarrà sempre preciso spero che questo video vi sia stato utile se volete altri consigli o domande non dovete fare altro che scrivermi nei commenti ci vediamo al prossimo video ciao